Diego Farias all'ultimo pareggio per il Cagliari Alla Sanregna Arena, Cagliari-Empoli termina 2-2 Un altro ennesimo pareggio di questa ventesima giornata di campionato Prima di iniziare questo video però vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare like Detto ciò torniamo a parlare della partita Allora, sicuramente partita che merita di finire in pareggio Perché qualcosa ha creato il Cagliari Ma qualcosa ha creato l'Empoli Forse l'Empoli meritava qualcosina in più Perché il Cagliari veramente in fase difensiva si è lasciato un po' a desiderare In questa partita, specialmente nel secondo tempo Nel secondo tempo l'Empoli ha avuto più cattiveria agonistica E diciamo che ha avuto anche più cattiveria sottoporta Cosa che in alcune occasioni al Cagliari è mancato nel secondo tempo Pavoletti come sempre di testa, credo sia uno dei migliori al mondo Di testa, a colpire di testa, è uno dei migliori al mondo Nel duello aereo è quasi impossibile marcare Pavoletti E l'ha dimostrato anche oggi realizzando l'1-0 Comunque sempre su colpo di testa Cross e colpo di testa Però poi nel secondo tempo l'Empoli si sveglia E prima arriva il gol di Lorenzo che realizza il suo primo gol stagionale E poi arriva il gol di Zaic 2-1 per l'Empoli Secondo me in quel frangente di partita Il vantaggio dell'Empoli è meritato Perché, ripeto, il Cagliari stava dormendo Ed è giusto che l'Empoli sia andato in vantaggio E poi però arriva la zampata di Farias Arriva la zampata di Farias che precedentemente aveva sbagliato una palla a gol Se non ricordo male Però lancio dalle retrovie Credo sia lancio di Barella E poi qua è veramente il difensore dell'Empoli è andato a farfalle È andato a farsi una passeggiata È andato dal suo che babbaro di fiducia Cioè, veramente intervento goffo del difensore E poi Farias con l'esterno A tu per tu col portiere A tu per tu con prove Batte il portiere dell'Empoli E dunque al 91esimo il Cagliari torna a pareggiare Ma questa partita, ma in generale Questa giornata di campionato ci sta regalando grandissime emozioni Alla faccia di chi dice che Ormai la Serie A non è più quella di una volta Ormai la Serie A qui, ormai la Serie A lì Beh, si vedono da queste piccole cose Il 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria Il 2-2 tra Cagliari ed Empoli Questo è uno scontro salvezza È uno scontro salvezza Alla faccia di chi dice che La Serie A non è un campionato competitivo Guardate, guardate Che è uno scontro salvezza Salvezza di due squadre Che non è che tecnicamente Sono le più forti Guardate che cosa ne esce fuori Una partita bella da vedere E emozionante Ricca di azioni, ricca di emozioni E quindi ragazzi 2-2 che diciamo Rispecchia quello che si è visto in campo Si è visto un match equilibrato Alcune volte meritava il Cagliari Altre volte meritava l'Empoli Forse, come vi ho ripetuto a inizio video Forse meritava un pochettino di più l'Empoli Ma il pareggio è il risultato Più giusto secondo me E poi diciamo che Questo punto potrebbe andar bene Sia da una sponda Che dall'altra sponda Nel senso che È uno scontro salvezza Un punticino Per centrare l'obiettivo sagionale Ovvero salvarsi Secondo me Ci può assolutamente stare Ripeto È uno scontro salvezza Quindi Un punto per accontentare Entrambe Le facce Le facce Della moneta In questo caso Parliamo di una faccia Al Cagliari Dell'altra faccia All'Empoli Diciamo che questo punticino Può accontentare tutti e due Quindi ragazzi Il video è finito Spero vi sia piaciuto Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di lasciare like Di seguirmi sui miei social Trovate tutto in descrizione Twitch Instagram E Facebook Detto ciò Ciao ragazzi